buonasera a tutti io sono jessica e questo è il mio canale nel caso non abbiate mai visto un mio video questo video importante perché è l'ultimo video che registro da 19 anni visto che domani che il 17 aprile compio 20 anni e quindi cominciamo con il video canzone del mese per se nel mese è stata take me home di jess glen non so come si pronunci ed è decisamente quella film serie tv del mese allora le serie tv sempre le stesse sono grace anatomy e vampire di iris perché è finito pretty little years è definito anche shameless e ora devo sperare che ricominci lo sto impazzendo poi accessorio del mese accessorio del mese accessorio del mese sono stati i miei anelli pitbull 1 siccome io ho un pitbull e quindi il 2 poi metterò le foto su instagram e questi due sono stati gli accessori del mese poi make up del mese il make up del mese è sempre lo stesso io non cambio mai questo trucco base di messo il mascara il fondotinta e la terra basta non metto altro profumo del mese allora profumo del ciascuno e io ho usato tantissimo questo qua di bershka c'è scritto candy touch bershka e e questo qua ho usato da bershka e c'era anche la versione rosa che probabilmente aveva il gusto leggermente diverso non lo so perché non c'era il tester quindi non ho potuto provarlo e niente è stato questo qua è un profumo del ciascuno si e dicevo cover del mese cover del mese è stata questa qua di ve della vena come marca che è oro e e sopra è azzurra e si stacca se la devi comporre quando la infili e dentro ha il vellutino questo ve l'avevo già fatta vedere nel video delle cover che è quella di anna delle pretty little years e mi piace un casino poi app del mese app del mese direi snapchat sto usando veramente tantissimo snapchat e tutte le effetti della fotocamera le facce e tutte le cose strane poi cibo del mese io penso che il mio cibo del mese non cambierà mai sarà sempre lo stesso ed è il sushi io vivo di sushi e iscritti del mese ora non mi ricordo siccome è aprile non mi ricordo a marzo a fine marzo quanti eravate comunque ora siete 1939 non mi so mi sembra 1939 comunque sono tantissime non potete arrivare a 2000 2000 io mi sento realizzata quindi iscrivetevi se non siete iscritti iscrivetevi che mi sento realizzata qui c'è bonny bonny chi c'è bonny andiamo andiamo bonny bonny non saluto bonny con tutti i pezzioletti moccicati bonny ecco lei è il mio pitbull che vi dicevo prima bonny che c'è palina palina bonny cadaci ah è qua dietro di me l'ho notato adesso abbiamo stitch stitch bravo tu mi caghi no non è capito niente no non ti volevo fare le coccole vabbè questo è tutto iscrivetevi al canale mettete il mippia iscrivetevi alla mia pagina instagram al mio facebook al mio dpop scrivetemi nelle mail commentate fate quello che volete fate i miei auguri per domani e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti